Sono stati fermati in A1 con l'auto stracolma di pacchi Amazon, 94 in tutto, sottratti ai corrieri incaricati delle consegne. Per questo la polizia ha denunciato per ricettazione due cittadini stranieri. È successo lo scorso venerdì sera, quando una pattuglia della Polstrada ha intercettato e fermato un'auto con targa italiana e a bordo due persone, ad insospettire poliziotti il fatto che l'auto, una station wagon, fosse stracolma di scatole con il famoso logo di Amazon trasportate sui sedili. Hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione sono così saltate fuori molte altre scatole, sempre con lo stesso marchio, risultate tutte sottratte ai corrieri che le avrebbero dovute recapitare agli acquirenti. I due avevano rubato soprattutto prodotti ai tech di grande valore commerciale e facilmente piazzabili sul mercato nero, tra cui 19 telefoni cellulari, 39 tablet e 7 notebook, un bottino insomma da oltre 70.000 euro. L'auto e la merce sono state sequestrate, mentre i due sono stati denunciati per ricettazione.